Bar, pasticcerie, ristoranti, supermercati e anche semplici famiglie. Da oggi nessuno ha più scuse per buttare il cibo avanzato o non utilizzato. A Pietrasanta infatti è stata lanciata dal comune l'iniziativa Io non spreco, in collaborazione con Azzurra Onlus, associazione che si occupa da anni di raccolta alimentare. Secondo le stime presentate, ciascuno di noi spreca 65 kg di cibo all'anno, un capitale che può e deve essere destinato alle tante persone del territorio che ne hanno bisogno. Donare sarà più facile da oggi grazie ad una guida pratica messa in distribuzione che spiega cosa può essere conferito e un numero whatsapp per programmare il ritiro o la consegna ai volontari di Azzurra. Qualsiasi persona, dal privato cittadino al commerciante al contadino, ci può chiamare se ha del cibo e invece che buttarlo ce lo può donare a noi che noi lo portiamo e lo doniamo alle persone che hanno bisogno. Questo si può fare telefonando che noi passiamo a prendere il cibo oppure venire direttamente nella nostra sede che è in via Marconi 27 a Pietrasanta. Ma è anche una lotta al conferimento dei rifiuti perché ovviamente tutte le aziende conferiranno meno rifiuti organici perché verranno donati ad Azzurra, quindi ha un doppio aspetto sia sociale che ambientale. Oltre al Comune di Lucca, penso che nella provincia di Lucca siamo i primi ad adottarlo. L'Associazione Azzurra distribuisce regolarmente 150 pacchi famiglia oltre a organizzare tre volte la settimana i giorni della carità con la parrocchia di San Martino per distribuire la spesa a chi ha bisogno. Sono circa il 90% sono tutte belle famiglie italiane che vanno dai giovani che non trovano lavoro e nel periodo invernale vengono più spesso perché lavorano estivi. Sono persone anziane che con la pensione non riescono ad arrivare alla fine del mese, separati.